Buongiorno a tutti i ragazzi e le ragazze e benvenuti a questo incontro della scienza narrata di Merxerono che conoscete bene, un concorso alla decima edizione che è davvero un'idea straordinaria secondo tanti perché dà a voi giovani un'opportunità che è veramente unica, sia quella di incontrare grandi scienziati sia poi quella di provare a trasformare quello che vi hanno raccontato addirittura in racconti e quindi se ci pensate quest'unione tra scienza e racconto è una delle alchimie più interessanti e più straordinarie che ci siano. In fondo noi viviamo in un mondo dove i racconti e le narrazioni sono continue, basta accendere la televisione, guardare qualunque media e ormai noi siamo abituati a una realtà per esempio quella dei grandi documentari di scienza in stile focus dove ci raccontano delle storie straordinarie e quindi la scienza assume sempre i contorni quasi del thriller, del giallo, del romanzo che sembra pieno di personaggi, di storie impossibili invece poi scopriamo che è tutto vero e che in realtà il limite è la nostra fantasia e non la scienza che va sempre oltre. E quindi sono felice di presentarvi qui oggi Andrea Moro e Mario Capello, parleranno entrambi e vi racconteranno questi due aspetti della scienza e del racconto. Per chi non lo conoscesse Andrea Moro è uno dei grandi linguisti italiani, vi affascinerà immediatamente, lui ha fatto molti libri, ne ricordo uno che si chiama una breve storia del verbo essere e se provate a leggerlo immediatamente vi addormentate, no in realtà vi si accenderanno delle lucine in testa perché io per esempio non avevo mai pensato che il verbo essere cioè dire una semplice parola che è con l'accento provocasse delle possibili tempeste per cui c'era questo filosofo Russell che era sconvolto da questo verbo e il professore si è divertito a fare questo gioco di partire da Aristotele e Platone e arrivare fino alle neuroscienze di oggi quindi ha messo insieme in pratica tutta la storia dell'umanità e del pensiero semplicemente usando forse la parola più breve che esiste che è con l'accento quindi visto che oggi si parla di linguaggio e che voi poi dovrete trasformare quello che sentite in racconto e quindi in linguaggio pensate che cosa si nasconde nel linguaggio, quanto sia incredibilmente complicato e straordinario basta questa parolina, questa lettera che scatena un mondo e quindi lascio la parola al professor Moro che ci apre la porta su questa realtà grazie mille, grazie di questo invito e a voi di essere qui, in realtà mi ha fatto venevole di cambiare argomento però cercherò di mantenere le promesse e c'è un'altra cosa che sembra provata tra di noi io volevo iniziare, dunque vi spiego cosa faccio oggi, io vorrei cercare di portare l'esperienza di una persona che è rimasta affascinata dalle lingue e ha incontrato dei neurologi che gli hanno dato retta ed è andato avanti a esplorare quello che c'era nelle grammatiche e nel cervello siccome non voglio fare una lezione ex cathedra ho pensato di farlo portando, guardate io potrei anche alzarmi, non è che cambi molto però mi alzo stesso, quello che voglio fare è portarvi l'esperienza di due esperimenti va bene lo stesso per le tre camera, sì vedi che e per iniziare in realtà avevo pensato una cosa che si rilascia veramente a una parola che hai detto tu e sembra veramente preparata, ho preparato la citazione di uno dei gialli più interessanti della storia dell'umanità parlando di un liceo classico, lo riconoscete dopo tre secondi, ma anche non di un liceo classico e il giallo c'è questa persona che deve trovare un colpevole e se non lo trova sono guai, per lui è la sua gente e guardate cosa dice, accade quel che deve accadere, io voglio vedere il seme da cui provengo anche se è umile sono stato generato così, non potrei diventare altro, dunque voglio andare fino in fondo nel conoscere la mia origine lui capisce che per trovare il colpevole deve capire dove viene, ovviamente sono i versi dell'Edipo Re c'è una cosa molto interessante, se voi comprate, naturalmente voi venendo da un liceo classico, anche io ho fatto liceo classico come voi non so se voi le leggete tutte in greve, tutte la sera prima della mia, vi rileggete tutte le tragedie quando arrivate all'Edipo Re, siccome siete stanche e le comprate in traduzione, vedrete due parole strane questa parola è il seme e origine nella maggior parte delle traduzioni in commercio è tradotto come un'unica parola, soprattutto nelle edizioni anglosassoni che erano quelle che avevo io quando ho iniziato a ristudiarmi l'Edipo Re in greco c'è tosperma e ogenos, in inglese è origin and origin è stranissimo perché i greci avevano molto ben presente e quando tu parli di origine di una persona parli di due fatti diversi una è la tua origine come seme individuale io Andrea Moro che a un certo punto ero una morula, una cellula, eccetera, eccetera è il mio seme e poi c'è la sequenza di semi che mi hanno preceduto cioè la mia stirpe ecco, io credo che la passione verso il linguaggio dia una specie di prospettiva naturale, speciale su queste due origini e per far questo cercherò di portarvi attraverso questa indagine del linguaggio e del cervello c'è una sfida che sta appassionando tutti i laboratori di neuroscienze del mondo intanto da dove parte la sfida? parte da una consapevolezza cioè che il linguaggio dipende dal cervello guardate, non è così banale per Aristotele, che tanto scemo evidentemente non era il cervello era il radiatore del corpo serviva per raffreddare il sangue il centro emotivo del corpo era il cuore questa visione di psicologia cardiocentrica permane in alcuni relitti linguistici in inglese sapere le cose a memoria si dice no something by heart ora non è che gli inglesi sono questi grandi romanticoni se dicono by heart e poi anche dal punto di vista fisiologico voi dite, guarda volevo dirti una cosa ho il cuore in gola, mi batte il cuore è evidente che il correlato fisiologico del cuore era immediatamente messo in relazione ai fatti emotivi e invece c'è stato uno spostamento di attenzione verso il cervello si è pensato che il cervello controllasse il linguaggio ma c'era una grande domanda nell'ottocento ed era quando il cervello reagisce con il linguaggio lo fa come fa il fegato quando digerisce cioè se voi mangiate un peperone o un cucchiaino di yogurt non è che il fegato ha l'area del peperone e l'area del cucchiaino di yogurt il fegato reagisce tutto insieme a seconda delle sostanze che immettete quindi avevate due possibilità il cervello poteva essere come il fegato cioè reagisce tutto insieme o sotto organizzato chi difendeva l'idea della sotto organizzazione però purtroppo la difendeva su una base empirica scorretta cioè pensava che la forma del cranio toccando la superficie della calotta cranica facesse rilevare le capacità anteriori anche qui la lingua è molto interessante perché abbiamo anche qui dei relitti linguisti il bernocco o lo della matematica non viene dal fatto che quando c'è una derivata è meglio picchiarsi in testa ma dal fatto che uno dice beh forse se evidentemente hanno trovato un matematico che aveva una protuberanza misteriosa tutto guarda nonché succede quello che succede spesso nella scienza Pasteur diceva che le cose che il caso esiste ma solo le menti preparate a riconoscerlo riescono ad averne vantaggio succede che si presenta in un ospedale parigino a metà dell'Ottocento un paziente che bussa la porta vestito bene pulito, ragionevolmente socievole che però aveva perso il dizionario non il libro, aveva perso il dizionario in testa aveva una sola sillaba TAN aveva ancora tutta la minica aveva detto sì, facendo così lui avrebbe continuato a usare le mani l'espressione del volto questo paziente viene ricoverato viene soprannominato TAN o TANTAN a un certo punto inizia una paresi dalla parte destra del corpo viene ricoverato in chirurgia il paziente muore deve essere stato probabilmente l'esito di una sefilide che a quel punto aveva degli esiti neurologici importanti il chirurgo apre il cranio e trova un buco che lui chiama rammollimento nel cervello di TANTAN il dottore si chiamava Broca e da allora si è capito che il linguaggio deve essere associato non solo al cervello ma a una parte specifica del cervello era la prima prova anche se gli storici della medicina pensano che forse ci fu un pavese che aveva avuto un'indicazione interessante sulla visione ma insomma noi ci limitiamo ora a questa versione canonica della neurofisiologia si dice la prima prova che il cervello fosse sottorganizzato indipendentemente ovviamente dalla struttura della calotta cranica che viene poi classificata come neuro che viene classificata come frenologia le radici ovviamente sono ovvie per voi ora la grande sfida qual è? è chiedersi se non solo il cervello se non solo il linguaggio ma le singole regole delle lingue dipendono anche questa dalla struttura del cervello quindi non più solo il linguaggio come atto comunicativo inteso integralmente ma la struttura delle grammatiche perché questa cosa è stata affrontata relativamente tardi? perché come sempre l'ideologia si intrufola nelle scienze e può costituire o un propulsore o un deterrente guardate io insisto molto su questo aspetto perché sembra che esista un'oggettività della scienza che prescinde dall'atteggiamento filosofico e culturale non è assolutamente vero nella più oggettiva delle scienze voi trovate sempre un'infezione filosofica che può agire in un modo o nell'altro nel caso del linguaggio era evidente qual era il problema e per dirvi per illustrarlo vi faccio leggere un pezzettino di una citazione della prefazione di un libro fantastico si intitola I fondamenti biologici del linguaggio è un libro scritto da uno dei più grandi neuropsicologi del secolo scorso che lavorava a Boston al Massachusetts General Hospital sentite cosa dice una ricerca biologica sul linguaggio appare necessariamente paradossale dal momento che viene così ampiamente ammesso che le lingue consistono di convenzioni culturali di natura arbitraria è relativamente recente questo testo cioè un testo del 67 non ha neanche 50 anni quasi 50 anni lui dice se il linguaggio fosse tutto arbitrario non ha senso cercare nel cervello il circuito perché facciamo un esempio voi conoscete i semafori hanno tre luci rosso, verde e giallo non c'è niente di intrinsecamente legato al colore giallo nell'attesa poteva essere una luce bianca avere i semafori poteva essere una luce invertita in alcune città funziona così quando c'è rosso tu vai quando c'è verde freni e così ci si autoregola in qualche modo quello che è chiaro è che le scelte convenzionali non devono lasciare traccia tu casomai nel cervello hai la zona che percepisce il giallo non che fai in modo che dal giallo attendi oggi di qua sono molto cambiati chi di voi studierà neuroscienza neurobiologia o medicina si troverà di fronte a questo volume che credo che pesi non meno di 3 kg con 10 di questi vi fate un muro è un libro scritto da Eric Kandel che è un premio Nobel per la medicina o fisiologia che sta a Columbia University vi segno un trucco questo libro bisogna fare un mutuo per comprarselo però sapete che su Amazon c'è la possibilità di avere un esempio quando comprate la versione elettronica il sample di questo libro è il primo capitolo il primo capitolo è quello sul cervello ed è quello nuovo quindi è gratis se avete voglia ve lo scaricate avete un programma qualsiasi è molto interessante parte dal primo geroglifico pensate un libro di neuroscienze dove si parla di cervello in un trattato scritto e arriva fino agli esperimenti recenti quello di cui voglio parlarvi ovviamente non è il linguaggio tutto perché il linguaggio tutto è come il mondo tutto nessuno parla di tutto c'è un bellissimo saggio di tanti anni fa scritto da Ludovico Geimonat che non so se è ancora in commercio che si tratta da Galileo Galilei PBA in Audi dove dice l'avanzamento di Galilei nella scienza non è stato quello di far diventare la scienza qualcosa che comprendesse il mondo ma al contrario che riducesse l'osservazione a poco la scienza inizia quando tu fai quello che fa Kubrick quando quando filma cioè fa zoom in se a voi piace il cinema come piace a me sapete che è una delle marche tipiche di Kubrick se non avete visto Shining chiedo ai professori di metterlo in programma almeno al penultimo anno è fantastico questo zoom questa marca della focalizzazione che concentra l'attenzione succede anche nella scienza su cosa ci concentriamo noi? ci concentriamo sulla sintassi cioè sulla capacità che gli uomini hanno di ricombinare dei segni ottenendo significati nuovi faccio un esempio molto semplice anche qui se vi do tre parole Caino Abele e Uccise voi riuscite a fare almeno due frasi Caino Uccise Abele Abele Uccise Caino stesse parole ordine diverso scenario completamente diverso siamo gli unici animali che prendendo degli elementi minimi e variando nell'ordine riescono a dare significati diversi questo non è un atteggiamento individuale o preferenziale pensate che Steve Anderson alla conferenza internazionale della società di linguistica americana ridisse nel 2008 i sistemi di comunicazione di tutti gli altri animali si basano su un numero limitato e fisso di insieme di messaggi discreti questa cosa è stata anche in qualche senso provata sperimentalmente almeno una misura in cui esiste sperimentazione delle scienze empiriche c'è un bellissimo esperimento degli anni 70 dove una ricercatrice un gruppo di ricercatori la ricercatrice è una mia amica canadese che ha un cognome italiano Laura M. Petito ed è questa qua ha iniziato sono vissuto in casa con un cuccio di scimpanze l'esperienza è da punto di vista etico per l'animale non so quanto sostenibile c'è un bellissimo film che trovate in giro per Feltrinari si chiama Project NIM questo scimpanze è stato preso prelevato alla madre e ha iniziato a vivere con gli esseri umani che ha iniziato a parlargli con il linguaggio dei seni sapete il linguaggio dei seni non è una finta grammatica semplificata sono tanti linguaggi quanto sono le lingue del mondo è complicatissimo come qualsiasi altra grammatica allora ha iniziato a parlare con lo scimpanze perché hanno detto così superiamo il problema della laringe che in quegli animali è meno controllata della struttura delle labbra che riesce non riesce come sto facendo io adesso ad articolare suoni complicati invece in quanto a gesti gli scimpanze usano anche se volete ce ne hanno quattro possono andare in simultanea con le mani cosa succede? succede che questo scimpanze inizia a prendere le parole e loro le misuravano quando NIM si chiamava NIM CIMSKI chi conosce retroscena si immagina come mai ma insomma poi vi spiego ma quando NIM usava la stessa parola per tre volte consecutive in modo giusto o con più di tre persone in modo giusto veniva detto conosce la parola bene NIM arriva a conoscere 130 parole 128 per la precisione 128 parole sono tantissime se noi sapessimo se io sapessi 128 parole di giapponese potrei vivere a Tokyo tutta la vita perché ci stanno tutti i verbi principali i nomi i oggetti poi cos'è successo? quindi li hanno confrontati con quelli di un bambino NIM e un qualsiasi bambino come quando noi eravamo bambini abbiamo iniziato a produrre esattamente anche i tuoi cuccioli che adesso che due anni e mezzo stavo dicendo gemelli introdotto quindi interessantissimi anche dal punto di vista adesso si diventeranno delle cavi no poverini infatti i linguisti non fanno figli perché è per statuto cosa succede? succede che a un certo punto NIM inizia a usare le parole in serie come fa un bambino solo che su 19.000 frasi non una frase si distingueva dall'altra per l'ordine cioè per NIM dire Caino uccise Bello Bello uccise Caino è la stessa cosa perché fotografava solo gli attori e l'azione non c'era sintassi in un lavoro molto recente che non cito qua ma tipo di qualche mese fa la stessa cosa è stata fatta con i Gorilla che anche quelli che sono sono intelligenti anche con loro stesso risultato insomma la morale è che aveva ragione Cartesio Cartesio nel metodo a un certo punto dice una cosa straordinaria non c'è nessuna persona dice neanche gli idioti io di solito salto questa cosa perché poi ho paura dell'associazione idiotica che magari mi fa causa perché se lo c'è sempre non c'è potete ridere con di così se non mi fate sentire in colpa dice non c'è nessun animale che messo in una condizione speciale riesca a utilizzare la sintassi dunque il primo punto che concordo con voi è che per osservare il linguaggio guarderemo la capacità di ricombinare all'infinito le parole dandone un significato questa è l'impronta digitale del codice di comunicazione umano cosa fa un linguista un linguista va a caccia di trame nascoste se dovessi spiegarlo come ho fatto una volta dovevo spiegarmi molto rapidamente a una persona gli ho detto vedi i linguisti fanno così fanno degli scialletti schifosi tra l'altro di questo colore qua fanno perché dovete scrivere questo scialletto al telefono quindi dovete comprimere l'informazione un filo cosa dite guarda dividi in colonne righe primo è come si chiama rosa 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 poi scendice rosso poi rosa poi rosa poi rosso però il linguista arriva e fa così gira dall'altra parte il golfino e vede la trama nascosta e si rende conto che due fenomeni apparentemente scorrelati a distanza l'apparire del rosso in realtà sono lo stesso filo rosso che si tuffa si nasconde l'attenzione e si recupera più avanti perché questa immagine assomiglia al nostro linguaggio per farvene rendere conto vi faccio un esempio semplicissimo immaginiamo questa frase Giovanni corre questa è una frase su che cosa sia una frase non insisto Giorgio Graffi che è stato mio maestro un esperto della storia della linguistica ha contato 300 definizioni diverse di frase quindi è un po' come la questione dei numeri tutti sanno usare i numeri se ti chiedono cos'è un numero e non sai canto lo freghe sono dolori però questa è una frase è un nome è un verbo in più è un collante solido il nome singolare e il verbo singolare guardate cosa succede in questo caso Giovanni corrono non è più una frase è uno schifo perché c'è un soggetto singolare un verbo al plurale infatti ci mettiamo l'asterisco la domanda è questa è sempre uno schifo oppure qualche volta noi possiamo dire in modo appropriato la sequenza Giovanni corrono se ci pensate è banale la risposta certo che possiamo immaginate questo caso coloro i quali amano Giovanni corrono stessa sequenza in due contesti sintattici diversi dà un esito completamente diverso nel secondo caso la sequenza è perfettamente accettabile nel primo caso no perché? perché noi abbiamo il fatto che Giovanni non è il soggetto di corrono ma il complemento di amare è che invece la frase più grande è quella che prende coloro e corrono ecco quando noi parliamo facciamo infinite operazioni di questo tipo un po' come la trama nascosta nascondiamo all'ascoltatore un pezzo di struttura che viene fuori dopo nella forma di accordo in questo momento il vostro cervello sta computando una quantità enorme di equazioni di questo tipo per recuperare soggetti e predicati nelle vibrazioni d'aria che escono dalla mia bocca l'altro ingrediente fondamentale è che la cosa fondamentale a cui ha portato questo tipo di analisi è stato proprio un fatto che è stato proprio enunciato nella struttura dove si è formato uno dei vostri professori la scuola normale di Pisa e in quegli anni non so se tu eri sei riuscito ad assistere alla sua conferenza no perché lui l'ha fatta credo nel 79-80 ecco vedi tu giustamente eri nella classe a fianco della rivoluzione scapita sempre anche a me la legge di Murphy cosa è successo della rivoluzione e beh io non c'ero e lui enuncia questo principio fondamentale il linguaggio è un insieme di valori specifici di parametri in un sistema invariante di principi riduce Babele in un certo senso ha un fatto combinatorio è meraviglioso per quanto riguarda il linguaggio non è meraviglioso per quanto riguarda la scienza perché noi sappiamo questo è un manoscritto fantastico che l'ho trovato in rete la rete è una miniera meravigliosa se sapete usare questo è un manoscritto di Mendeleev della tavola periodica degli elementi quello che se dovessi scegliere un tatuaggio non ho tatuaggi vi assicuro ma dovessi scegliere ne uno mi farei 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 la tavola periodica sulla schiena ci stanno secondo me ce n'è da leggere anche poi su di me c'è tutte le serie alifatiche e questo è molto interessante cioè Chomsky guardando dietro la trama nascosta delle strutture riesce a capire che questi tuffi che fa il linguaggio sono in qualche modo universali ora questo è quello che sa un linguista vedete gli ingredienti sono due a questo punto il linguista che guarda le trame e il neurobiologo che guarda il cervello tutte e due si guardano di lontano e sanno che in qualche modo dovranno interagire il problema è come si fa a trasportare quello che sa un linguista in quello che sa un neurobiologo notate che tra l'altro adesso a parte gli scherzi la conoscenza delle lingue classiche è paragonabile per profondità e sistematizzazione alla geometria sono quelli i secoli decisivi i secoli dell'ellenismo quando si definisce la nozione di piano punto retta e si definisce la nozione di paradigma la nozione anzi se vogliamo gli storici erano anche più raffinati perché la nozione di aspetto che da noi è confluita se chiedete a una persona qualsiasi la differenza tra imperfetto e passato remoto non sa che è una distinzione aspettuale ma io non parlerò di questo oggi non interrogo spiego come dice però è molto interessante quindi c'è un accumulo enorme di consapevolezze linguistiche conoscere la descrizione delle lingue classiche ti mette a confronto di un sapere linguistico solidificato attraverso i secoli da riflessioni estremamente sofisticate pensate se io non avessi studiato greco e latino non sarei riuscito ad affrontare sono laureato lettere classiche le cose che voglio farvi vedere ora vi voglio parlare di due vie per accedere al cervello l'esplorazione del cervello può avvenire almeno secondo due vie studiando dove i neuroni si attivano o cosa comunicano tra di loro vi risparmio tutte le osservazioni su come funziona il cervello una qualche idea ce l'avete solo una ve la voglio dire perché mi ha colpito in un modo straordinario il numero dei circuiti che ciascuno di noi ha nel cervello è un numero che nemmeno Borges sarebbe riuscito a inventare sapete c'è un premio Nobel per la medicina o fisiologia che si chiama Gerald Edelman che insieme a Giulio Tononi un italiano che peraltro è stato anche la scuola normale ha scritto un libro in cui hanno fatto questo paragone si sono chiesti quante particelle ci sono nell'universo cioè quante particelle ci sono in questa stanza in tutta Torino pianeta Terra sistema solare nostra galassia numero delle galassie hanno fatto un conto e viene fuori 10 alla 72 poi hanno fatto il conto del numero dei circuiti possibili in ciascuno dei nostri cervelli cioè dei percorsi possibili tra un neurone e un altro e viene 10 seguito da un milione di zeri noi abbiamo una quantità di combinazioni tra le due orecchie nostre che sovrasta il numero delle particelle dell'universo in un modo quasi inimmaginabile da qui quindi quando qualcuno vi venderà il fatto che avendo tutti lo stesso cervello lo stesso DNA siamo tutti copie l'uno dell'altro dice sì a meno di 10 seguito da un milione di zeri la nostra originalità è salva almeno per tanto in quanto la possibilità di due combinazioni identiche in questo repertorio infinito sembra effettivamente infinito e adesso insieme attraverseremo la via del dove e la via del cosa c'è un preliminare io vi ho parlato di sintassi e di cervello ma noi come facciamo ad essere sicuri che esista una rete proprio per la sintassi voi studiando una qualsiasi grammatica sapete che c'è la fonologia per i suoni il lessico per le parole la sintassi per l'ordine la semantica per i significati e voi volete chiedervi se la sintassi è svincolata dagli altri allora il preliminare è chiedere se esiste una rete per la sintassi e qui ci siamo molto divertiti il primo esperimento pilota che vi descrivo fatto a San Raffaele con Stefano Cappa Daniela Perani Marco Tettamanti Caterina Donati che è una mia collega che ora insegnava a Parigi è stato di costruire una lingua che avesse la sintassi ma non la semantica ora se non arriva nessuno in questo momento e voi capite immediatamente perché io vi dico che ai nostri soggetti che erano messi in una macchina di neuroimmagini quindi andavamo a misurare come si muoveva il sangue nel loro cervello noi dicevamo che il gulco c'è una cosa che a me colpisce sempre noi siamo predisposti a ridere come mai ci faccia ridere che le pitanghe siano state gasporate nessuno lo sa chi lo scopre si prende tre premi Nobel per la medicina per la letteratura probabilmente anche per l'economia perché se vende il programma arriviamo tutti chi se ne frega del resto questo è molto interessante perché se io qui vi avessi fatto vedere tre più due uguale a otto non è che ridevate tanto se però vi dico che le pitanghe sono state gasporate sì cioè quando il cervello entra in confusione nell'interpretazione linguistica qualcosa di buffo accade ora voi immaginate di essere soggetti dentro una macchina che va a vedere come si muove il sangue nel vostro cervello quali sono le reti che si attivano guardate la prossima frase leggetela nella mente o vociate come volete e dite un momento c'è un errore perché c'è gr non è che io non possa dirlo gr lo dico benissimo ma sappiamo che non può far parte del repertorio fonotattico della fonologia italiana fossimo slavi avremmo probabilmente una parola come trieste si dice così guardate la prossima il vostro cervello reagisce automaticamente anche se non volete e dice professore il gulco gianigevano non va bene perché uno è singolare e l'altro provare chi ve l'ha detto c'è una citazione che io amo fare e ho messo in un librino parlo dunque sono che è di Varrone Varrone dice ci sono dei nomi che noi decliniamo senza chiedergli agli altri a voi nessuno vi ha detto cos'è un gulco e cos'è vuol dire gianigeare spero che a Torino non voglia dire una roba mostruosa io venendo arrestato all'uscita no è vero che mi confermate che è neutra non è una parolaccia eppure sapete che c'è un errore di tipo morfo sintattico e poi guardate l'ultimo gulcoil gianigeva brala la allora noi siamo andati a misurare cosa succedeva nel cervello delle persone sottoposte a sollecitazioni di questo tipo il paper è uscito su una rivista che si chiama Neuroimage una rivista internazionale ci sono errori di tipo fonologico errori di tipo morfo sintattico cioè errore di accordo ed errore di tipo sintattico la semantica era stata abolita perché non ha nessun significato le parole di cui che abbiamo inventato cosa abbiamo visto? questo è stato il risultato abbiamo visto che l'area libro K è una parte interna del cervello sia il manucolo caudato si attiva solo e soltanto quando io vedo errore di tipo sintattico avevamo dunque un argomento molto forte per dire che la sintassi era controllata controllata da una rete dedicata al cervello perché? perché altrimenti avrebbe reagito il cervello allo stesso modo per tutti gli errori invece per un certo tipo di errore esiste una rete dedicata adesso possiamo affrontare vi ricordate io sto cercando di seguire due vie la prima è la via del dove dove si accendono i neuroni nel cervello e poi c'è quella la sfida più grande che lascio negli ultimi minuti della mia presentazione la via del come la via del cosa c'è un fatto che succede se voi guardate i risultati delle lingue della linguistica del novecento capite che non tutte le regole concepibili di sintassi si realizzano nelle lingue del mondo e quindi c'è una domanda che ti dice perché alcuni tipi di regole non si trovano mai nessuna lingua del mondo quale tipo di regole adesso siccome manca in realtà soltanto un quarto d'ora io salto un pezzettino vi faccio subito vedere una regola impossibile la regola impossibile che vi faccio vedere è una regola che dovrebbe darvi nel cervello grazie una sensazione simile a quando cercate di decifrare un'immagine di questo tipo ne ho trovate tante questa per me è la più difficile non riesco a vedere il punto in cui voi ci vedete adesso no adesso sì in cui si incastrano le cose ecco ci sono delle volte in cui noi non capiamo cosa succede ma il nostro cervello reagisce ora vi faccio vedere una regola impossibile abbiamo una frase come l'uomo correva come si fa a fare la forma negativa di questa frase? così siamo dei marziani arriviamo sul pianeta Terra e vediamo l'uomo correva l'uomo non correva ci dicono che regola è? e tu dici beh l'uomo correva l'uomo non correva metti non dopo le prime due parole allora arriva uno dice l'uomo che vidi correva dunque si dice l'uomo non che vidi correva scemo perché non è così noi esseri umani lo sappiamo perché per noi la negazione non può avere un posto fisso in una struttura deve fluttuare tanto quanto è grande la posizione del soggetto preverbale per esempio quindi noi diciamo l'uomo che vidi non correva non può essere in una posizione fissa perché le cose sono così potrebbe essere che derivi dal fatto che tutti noi abbiamo un'origine comune questo è un mappamondo letteralmente la testa in giù è impressionante vedere come questo mappamondo che è preso dalla rete e in realtà da un'immagine che viene utilizzata dal Museo di Scienze Naturali di New York dice che noi abbiamo siamo comparsi in Africa 170-130 mila anni fa pensate in pochissimi anni questa datazione si è abbassata di molto adesso ci danno circa 100 mila anni a testa li portiamo bene evidentemente ma insomma chi più chi meno potrebbe essere quindi che l'assenza di regole col non fisso è dovuta al fatto che la prima lingua non aveva quelle regole tutte le altre derivano da quella prima lingua e arreditano quell'assenza però in effetti sarebbe un po' sospetto questo fatto e allora cosa si può fare? si può fare un esperimento l'esperimento utilizza ancora una volta le tecniche di neuroimmagine e qui siamo al cuore della prima parte quella del dove nel cervello cosa abbiamo fatto? abbiamo preso un gruppo di parlanti nativi siamo andati questo esperimento l'ho fatto con tre gruppi ma io oggi con voi semplifico un po' perché voglio darvi l'ossatura centrale dell'esperienza abbiamo preso un gruppo di parlanti nativi tedeschi della ex Repubblica Democratica sapete che i totalitarismi hanno come effetto immediato per controllare le persone e spazzargli via i contenuti le radici linguistiche quello che fanno tutti i dittatori la prima cosa che fanno è tu non parli la tua lingua tu parli la lingua che ti dico io l'Italia non funziona non ha funzionato del tutto come diceva Pasolini forse ce l'ha fatta la televisione ma insomma certamente siamo sufficientemente ricchi almeno dal punto di vista linguistico da mantenere ancora delle radici interessanti questi qui sono parlanti che abbiamo visto solo il tedesco gli abbiamo insegnato un finto italiano con dentro delle regole impossibili e poi siccome volevamo strafare gli abbiamo insegnato anche un finto giapponese con dentro delle regole impossibili e siamo andati a vedere cosa succedeva nell'area di Brocà che era una delle aree della rete della sentassi abbiamo misurato due cose primo abbiamo visto quanto erano bravi li abbiamo fatti fare dei compiti in classe loro facevano alcune di classe di italiano e di giapponese non sapevano niente di italiano e di giapponese e dentro gli avevamo messo alcune di queste regole qui col non fisso poi siamo andati a misurare cosa succedeva nell'area di Brocà guardate il risultato con le regole possibili più diventi bravo più sangue viene richiamato nell'area di Brocà la quale si sente coinvolta nella trattazione di fatti linguistici con le regole impossibili il cervello invece progressivamente disincentiva l'utilizzo della rete del linguaggio dunque quello che accadeva quello che è accaduto è che il cervello funziona in un certo modo come un setaccio naturale che sa già qual è la teoria linguistica e sa già che le regole con le posizioni fisse non esistono e quindi abbiamo il primo risultato i confini di Babel cioè il limite delle lingue sono il prodotto dell'architettura del cervello umano e non il risultato di una convenzione arbitraria di natura culturale perché non si può arbitrariamente attivare un circuito cerebrale questo è evidentemente il primo punto essenziale che l'incontro tra la linguistica e le neuroimmagini ti danno quando tu cerchi di analizzare questo dominio e ora invece affrontiamo il secondo passaggio ed è quello della via del cosa la via del come e la via del dove abbiamo detto è stato dire contro la preoccupazione di Leneberg non è vero che le lingue sono tutte convenzioni arbitrarie di natura culturale perché se no sarebbero come la lettura dei semafori attivando due reti diverse capisco che in qualche modo devono essere il prodotto del progetto genetico con cui noi siamo costruiti c'è però una sfida ancora più interessante che non è chiedersi dove nel cervello si attivano i neuroni che computano come in questo momento la grammatica di una lingua o they shift to another language trying to understand what's going on when you speak a language which is different from Italian in questo momento voi credo facciate tutto inglese noi abbiamo fatto uno studio molto interessante si chiama switch linguistico qui abbiamo preso un parlante gli abbiamo fatto registrare un racconto in due lingue e poi tagliando in punti chiave interessanti si passava da una lingua all'altra abbiamo messo delle cuffie su dei soggetti abbiamo visto cosa accade nel cilio di una persona quando sposti l'interruttore da una lingua all'altra non me la racconto oggi perché è talmente bella che la salvo per un'altra volta però la seconda domanda è ma cosa si dicono i neuroni i neuroni si dicono tante cose i neuroni per esempio possono trasmettersi delle sostanze che sono neurotrasmettitori sapete tutti ormai anche per una divulgazione scientifica non banale che esistono per esempio delle forme patologiche la depressione può correlare con un abbassamento del livello di serotonina eccetera ma a noi interessa ora invece la comunicazione elettrica cioè quella comunicazione di quel codice che viene passato da un neurone all'altro quando si computano fatti linguistici io parlo di linguaggio ma tenete conto che ci sono altri due domini cognitivi in cui io potrei non io ma alcuni miei colleghi esperti potrebbero parlare e sono la matematica e la musica musica, matematica e grammatica e forse i videovali ci vedevano più lungo di noi sono evidentemente il cuore pulsante della mente dell'uomo e esplorare questi domini ci fa vedere delle somiglianze interessanti ma ora vi voglio chiedere banalmente questa cosa di cosa è fatto il linguaggio allora se faccio questa domanda alle prime ore di lezione come può capitare ai miei studenti i più preparati mi dico beh allora il linguaggio è fatto di lessico fonologia e allora io insisto e dico no di che cosa è fatto il linguaggio lo chiedo come chiedo di che cosa è fatto questo tavolo e allora per chiedere di cosa è fatto il linguaggio deve avere un modellino di come è fatto il linguaggio cioè come è fatto fisicamente il linguaggio il linguaggio vive in due mondi vive fuori di me e dentro di me fuori di me vive sotto forma di onde acustiche le onde acustiche hanno bisogno di un mezzo che è l'aria e la compressione se io all'improvviso telepaticamente dovete ammettere di aver capito se io smetto di comunicare il suono cioè di far vibrare perché non esce più l'aria dalle corde vocali voi non capite più vero? ma evidentemente una volta che il messaggio arriva ai timpani non è che dentro ci avete dell'aria spero per cui vi viaggia continuamente il suono dentro dentro avete un chilo e mezzo di materia molliccia caricata elettricamente complicata dal livello di che vi avevo detto prima che in qualche modo deve manipolare un altro tipo di onda l'onda che manipola il cervello è un'onda elettrica allora vedete come succede sempre quando voi impostate il problema in modo schematico la domanda sorgera naturale partite intanto dall'osservazione che la stoffa della quale è fatta il linguaggio sono le onde e allora la domanda spontanea è quanto si assomigliano le onde acustiche e le onde elettriche cioè se io vi dico mamma qui c'è un'onda acustica che arriva alle orecchie quanto si assomiglia l'onda elettrica con cui voi computate mamma e non naso la differenza tra mamma e naso dal punto di vista acustico è ovvia ma dal punto di vista elettrico beh allora qui noi siamo partiti da una cosa che si sapeva già che quando il suono entra nel cervello la forma d'onda acustica nelle zone acustiche viene tradotta in forma elettrica in un modo tale che assomiglia alla forma acustica un mio collega Stefano Cappa un neurologo con cui appunto avevo lavorato a San Raffaele che ora lavora con me alla scuola universitaria superiore a Pavia ha assistito a un esperimento straordinario l'anno scorso al congresso di neuropsicologia di San Diego dove a una persona a cui veniva fatto sentire the wall di Pink Floyd andavano a beccare il segnale elettrico nelle zone acustiche lo registravano l'hanno rifatto sentire tu risenti the wall quindi vuol dire che nelle zone acustiche la capacità che un oggetto meraviglioso come l'orecchio umano ha di trasdurre un'onda acustica scomponendola in varie sottocomponenti in un'onda elettrica è straordinario però noi non siamo fatti soltanto di fatti acustici avete capito bene che noi abbiamo anche altre aree per esempio quelle che computano la struttura grammaticale qualcuno aveva visto che anche nelle aree non acustiche trovavi traccia della struttura sonora e allora ci siamo chiesti la cosa radicale ma cosa capita quando invece che il suono entra in noi esce da noi certo che a un certo punto passa dalla bocca dalla lingua dall'aria e viene modulata l'aria fino ad arrivare ma prima di arrivare alle labbra alla lingua alla bocca cosa succede al segnale dentro e allora abbiamo utilizzato una tecnica molto diversa rispetto a quelle precedenti di neuroimmagine abbiamo utilizzato una tecnica di cui ora vi parlo ma che passa attraverso costui essendo io cattolico sono obbligato a citarlo un santo per ogni in questo caso è Sant'Ambrogio a cui sono affezionato per via di quello che pensò un altro santo vedendo fare Sant'Ambrogio una cosa che non era evidentemente non so se lecita ma comunque non comune nel medioevo guardate cosa dice questa persona che guarda Sant'Ambrogio fare questa cosa non lecita quando Ambrosio leggeva i suoi occhi percorrevano la pagina e il suo cuore ne carpiva il significato ma la sua voce era silente e la sua lingua ferma questo è Sant'Agostino che vede Sant'Ambrogio che legge in silenzio c'è una parola addirittura con cui la gente chiama questa azione che è endofasia dunque noi siamo abbiamo iniziato vedete questa congiunzione avversativa contrappositiva ma è evidentemente un segnale forte che ti fa capire che questo non era un fatto scontato l'endofasia era una sorpresa ecco noi abbiamo allora provato a misurare cosa accade nel cervello quando invece di far uscire dalle labbra dalla voce una forma linguistica che ho pensato la penso e basta il risultato ve l'ho immaginato se non sarei qui a raccontarvelo ma comunque come abbiamo fatto a farlo abbiamo utilizzato una tecnica completamente diversa in questo caso abbiamo utilizzato la tecnica della chirurgia paziente in stato di veglia alcuni pazienti tipicamente pazienti oncologici che hanno dei tumori cerebrali per quando il chirurgo deve estrarre il tumore dall'interno del cervello deve tagliare la superficie e la corteccia purtroppo nel tagliarlo potrebbe tagliare alcune delle vie che il soggetto sta utilizzando per un compito allora cosa fa? per facilitare il recupero e danneggiare il meno possibile il paziente interferisce con una punta elettrica nella zona che taglierà e col paziente che colloquia e dove il paziente smette di compiere un compito colloquiare suonare cantare stringere la mano qualsiasi cosa che sia correlato con quella zona sa che lì non deve tagliare contemporaneamente può misurare l'attività elettrica della superficie e dunque quello che noi abbiamo fatto è stato di andare a vedere cosa succede al segnale elettrico quando sta dentro la testa ora per far questo e qui è il bello di questi domini scientifici in cui la distinzione come vedete tra umanistico e scientifico non ha senso il mondo è uno solo io parto da una laurea di lettere classiche abbiamo pubblicato questa cosa su PNAS lavorando con modelli matematici e con neurochirurghi per fortuna il mondo non si fa incanalare nelle strettoie accademiche e quindi si presta ad essere indagato con tutti gli strumenti possibili quello che abbiamo fatto è stato un confronto matematico sarebbe veramente troppo complicato farvi vedere la struttura matematica ma mi salva una cosa che il risultato della matematica in questo caso è visibile in un'immagine e allora vi faccio vedere due grafici che corrispondono all'attività fasica ed endofasica e se voi vedete nelle due strutture a meno di questioni particolari e di tipo periferico in assenza di suoni le onde elettriche dei neuroni riproducono le onde acustiche noi siamo riusciti a ottenere il primo risultato per cui i neuroni comunicano tra di loro in un modo tale per cui anche nel silenzio quando noi pensiamo a una parola le diamo la forma d'onda elettrica che avrebbe il suono della parola allora quel fatto illusorio per cui quando noi stiamo in silenzio pensiamo a una parola se noi dobbiamo pensare a casa noi pensiamo col suono non pensiamo soltanto alle finestre ai muri alla struttura la pensiamo col suono casa è come se nella nostra testa si suonasse non c'è non c'è perché non abbiamo trasmissione sonora che cosa ce ne facciamo noi di queste cose qui beh è evidente che noi possiamo fare varie cose creare dispositivi per aiutare le forme di afasia Steve Hawking sapete questo grande fisico di Cambridge che ha una teoria sui buchi neri straordinaria che però ha una forma progressiva di degenerazione mielinica per cui non riesce più a parlare ma è intatta la sua struttura linguistica se noi potessimo accedere a quell'area lì con uno strumento che ora non c'è potremmo farlo parlare invece che andare lettera per lettera però potremmo anche carpire informazioni che noi non vogliamo da persone che non vogliono confessarle e mai come adesso la questione di un'invasione di questo tipo insomma noi siamo fermi a Giacchile Sant'Ambrogio Sant'Ambrogio sarebbe contento poi ti dà la penitenza però hai pensato doveva l'undicesimo comandamento non pensare noi siamo fermi alla decisione etica si parlava prima poi insieme della questione etica l'etica la scienza è neutra rispetto alle decisioni etiche un coltello lo usate per affettare il salame o per accoltellare una persona decidete voi quello che vi dà è lo strumento io vi ho parlato oggi appunto di strutture biologiche del linguaggio i 45 minuti sono finiti ne prendo ancora due per semplicemente per finire dicendovi questo in realtà questa visione biologica del linguaggio che potrebbe sembrare astrusa fu presa molto sul serio in questi anni non tanto in Italia se volete ci fu qualcuno che disse ma sai io quando ti parlo ti trasmetto informazioni ma se ti star notisco contro oltre a pubblicarmi uno sberlone perché tu dici prossima volta metti la mano avanti la bocca ti passo comunque informazione pensate non gradita ma informazione qualcuno ha riflettuto su questa cosa e ha pensato che il nostro organismo che è dotato di una quantità sovrabbondante di informazione potrebbe imparare più delle lingue di quelle mai apprese questa cosa fu presa talmente sul serio che Nils ierne disse trovo stupefacente che il sistema immunitario possieda un livello di complessità che suggerisce analogie più o meno stupefacenti ma comunque sorprendenti con il linguaggio umano questa frase l'ha detta una mattina a Stoccolma quando ha preso il premio Nobel la Nobel Lecture voi insieme alle di Porè prima di andare a dormire andate sul sito Nobel dove vedete se si dice no oggi no però sperando vedete e troverete è bellissimo il sito da parte scherzi il sito della fondazione Nobel andateci perché avete tutte le conferenze in una pagina di quelle che ho preso il primo nome quella di ierno è fantastica si chiama A Generative Grammar of the Immune System una grammatica generativa del sistema immunitario la grammatica generativa è quel termine inventato appunto da Noam Chomsky per caratterizzare queste cose quindi ha preso spunto dalla forma di interpretazione del linguaggio per dire che il nostro sistema immunitario funziona nello stesso modo lasciatemi finire ora semplicemente con un numero il numero che è il capostipide di tutte le vigilie nel 1491 si era la vigilia scoperta all'America noi siamo alla vigilia forse la scoperta del cervello uno dei due programmi flagships della Unione Europea si chiama Human Brain Project ha rastrellato un miliardo e 350 milioni di Euro per decifrare la struttura del cervello dobbiamo però ricordarci che il 1491 è anche la vigilia di altri due eventi la distruzione sul Tarnato di Granada e quindi la definitiva chiusura della possibilità di colloquio tra il mondo cristiano e il mondo islamico e poi la cacciata degli ebrei dell'Europa allora io spero che con la compagnia di persone svegli come voi che sono riusciti a stare attenti a questa cosa noiosissima saremo in grado di scegliere quale vigilia noi possiamo assistere in futuro questo è tutto fisso che siamo vicino a Natale quindi ho anche i consigli per gli acquisti grazie 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 solo una cosa sono dimenticato di dirvi nei miei vari ruoli io sono anche mio malgrado consigliere ufficiale del ministro Giannini per la università e la ricerca ieri sera in colloquio le ho detto a quale evento sarei stato di fronte oggi e questa idea del narrare la scienza e lei è rimasta entusiasta da questa notizia e ho detto che ne avrei parlato e avrei poi anche diffuso le cose che avete già fatto qua mi ha però raccomandato una cosa mi ha raccomandato di dire a tutte le ragazze di non lasciarsi impressionare dai modelli maschili nella scienza tenete duro perché lo dice lei siete le più brave e lo riporto grazie grazie ancora al professor Mor che è stato davvero straordinario io vorrei presentarvi un momento il dottor Antonio Tosco che è direttore del spero di pronunciarlo bene Health Outcomes and Market di Merck Serono che è l'azienda farmaceutica che organizza questo concorso e ci porta il suo saluto e è un'occasione per capire meglio lo spirito di questa iniziativa davvero unica che in dieci anni ha entusiasmato ci tengo a dirlo tantissimi giovani tantissime ragazze e ragazze e tra l'altro ha avuto anche un numero speciale di vincitori torinesi quindi bisogna dire che i ragazzi e le ragazze di Torino fra tutte quelle d'Italia che sono stati selezionati in questi dieci anni si sono rivelati fra i più abili nel coniugare questi due mondi apparentemente così lontani che sono scienza e narrativa prego grazie buongiorno mi sentite se parlo così tanto mi scuso ho sbagliato biblioteca io mi chiamo Antonio Tosco sono uno dei direttori di questa azienda che si chiama MEC non voglio promuovere l'azienda che rappresento ma vi voglio raccontare in qualche minuto quello che noi facciamo e perché sosteniamo questa iniziativa MEC è un'azienda chimico-farmaceutica che cosa significa chimico e cosa significa farmaceutico noi produciamo cristalli liquidi con cui vengono realizzati schermi smartphone tutto quello che è visibile quello che riesce quindi a far trasmettere immagini siamo leader mondiali di questo prodotto abbiamo quasi il 70% dei moduli in mercato che significa che su 10 smartphone 7 sono realizzati con i nostri cristalli liquidi l'altra cosa che noi facciamo nel chimico è noi coloriamo noi realizziamo i pigmenti che sono le componenti che servono per ora coloriamo il magnum oro gelato coloriamo gli air coloriamo le audi coloriamo la fiat 500 sterrata quella che sembra un confettone per cui è una nostra esclusiva noi coloriamo prodotti cosmetici rossetti coloriamo un po' di tutto quindi diamo al mondo un colore io poi sono dal tonico per tutti i pezzi quindi loro colorano ma io non ne vedo tutto però bene e questa è l'area che è l'area chimica sul ci spostiamo sul farmaceutico e qui entriamo in temi molto più complessi ci occupiamo di fertilità voi oggi non avete di queste esigenze ma fra qualche anno comincerete a pensare probabilmente alla famiglia delle bambini oggi nel mondo questo è un problema che sta crescendo perché le coppie hanno qualche difficoltà in più ad avere bambini e noi con i nostri farmaci aiutiamo in particolare le femminucce ad avere qualche olocita in più che poi permette a queste signore di migliorare le percentuali per i bambini quindi noi ci occupiamo di ormoni che servono per il tutto trattamento della fertilità un'altra tipologia di prodotti che seguiamo sono quelli che vengono impiegati per far sì che i bambini piccolini acquistano o acquistino qualche centimetro in più che invece non avrebbero normalmente sono quei bambini che hanno un deficit di GH è un ormone importante se non si ha questo ormone si rischia di diventare con i maneri piccini noi questo ormone lo produciamo e in quei casi quei bambini prendono quei 7 8 10 centimetri più che altrimenti non riuscirebbero ad avere e rischerebbero di essere un pochino diciamo di una statura non adeguata ci occupiamo di tiroide perché produciamo tano citero la terra di rode siamo quelli che hanno il farlo più importante e poi ci occupiamo di sclerosi multipla altra è complessa molto complessa noi siamo anche in questo caso leaders di mercato e stiamo passo avanti per quanto riguarda l'innovazione perché un'azienda che ha tanto da fare nella ricerca oncologica nella ricerca delle malattie neurodegenerative nel produrre di rimenti perché un'azienda di questo tipo promuove un'iniziativa legata alla narrazione al linguaggio e alla cultura e alla scienza perché è per l'ultimo termine che è usato scienza noi ci occupiamo di scienza la masticchiamo la ricordiamo la lavoriamo la elaboriamo e siamo convinti che la scienza debba essere anche comunicata in modo corretto perché altrimenti fa paura perché altrimenti non è comprensibile perché altrimenti rischia di creare delle interpretazioni sbagliate vedete provate a pensare a quello che è successo qualche tempo fa con tutta la storia delle cellule staminali e della confusione che ha generato noi abbiamo avuto a Roma per mesi e mesi una tenda piazzata di fronte al nostro Parlamento di persone che lamentavano l'accesso a qualcosa che era una burla questo è una interpretazione sbagliata di quello che è scienza ecco una azienda che lavora sulla scienza che lavora sull'innovazione e deve anche preoccuparsi di far sì che questi concetti vengano comunicati in modo corretto e allora sì le feste scientifici gli articoli gli studi le pubblicazioni questo va bene però il nostro impegno deve essere anche di molti ragazzi che sono il futuro e noi vogliamo quindi rivolgerci ai ragazzi prenderli per mano e stimolarli a scrivere le scienze questo è un pochino quello che noi vogliamo fare quindi noi ci crediamo ci crediamo non ci aspettiamo che ognuno di voi scriva i racconti perché non è così però ce lo auguriamo ce lo auguriamo oggi il linguaggio dei ragazzi è un linguaggio complesso che a me non ha pacchiere perché faccio parte di un'altra generazione ma provare a sviluppare quella terminologia che si usa sugli sms provare a raccontare qualcosa beh credo che sia stimolante la cosa importante che dovete sapere verrà detta probabilmente fra qualche minuto ma io forse ho un'anticipo che l'hanno già detta è che i nostri racconti saranno letti ed è abbastanza unica come situazione qualcuno si qualcuno avrà a cuore i nostri racconti li leggerà li correggerà vi darà dei suggerimenti e non li considererà dei compiti in classe quindi non avranno un voto ma voi riceverete di quello che avete scritto è qualcosa credo di abbastanza particolare l'altra cosa che dovete sapere è che noi ci siamo anche presi lo scrupolo di andare a recuperare tutti i vincitori delle precedenti elezioni quindi non abbiamo soltanto premiato abbiamo dato un certificato un documento una placca qualche soldino noi poi ci siamo andati a recuperare questi ragazzi eravamo un po' curiosi di sapere che fine avevano fatto e come stavano sviluppando il loro percorso sia a livello educativo che a livello professionale non siamo ancora professionali perché sta ancora l'università quindi i primi vincitori quindi ancora non sono in Italia del mondo del lavoro però li abbiamo contattati racconti e li abbiamo fatto vivere delle esperienze formative un po' in particolare esperienze che magari mi potranno aiutare ad entrare nel mondo del lavoro un esempio per tutti lo scorso anno questi ragazzi hanno preso parte ci hanno andato in Rai ah sì hanno preso parte ad una ad una diciamo ad una sessione di costruzione di notizie quindi hanno vissuto in diretta all'interno di una sede televisiva come si comunica come si costruisce un evento televisivo mi parla del giornale un documentario scelto ecco questa è la cosa che ci fa ancora più piacere quindi andare a recuperare i talenti i vincitori quelli che si sono un pochino restiti e aiutarli un pochino a entrare nel mondo del lavoro provando a dare un pochino di più di formazione magari sfruttando i nostri canali i nostri contatti la nostra visibilità esterna questo era un po' quello che vi voglio raccontare grazie 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 al dottor Tons come dicevamo col professor Moro che visto che poi avremo ancora un po' di tempo magari di questo tema della diffusione della scienza e di come raccontarla ne parleremo ancora un po' perché è probabilmente uno dei temi più affascinanti e più coinvolgenti di questo momento in fondo voi come giovani secondo me siete molto fortunati a vivere un'epoca in cui quella che si chiama la tecnoscienza ormai domina tutti gli aspetti della nostra vita e suscita in noi tutta una serie di interrogative di problemi aperti che in fondo rappresentano le grandi sfide dell'umanità quindi diciamo che in questo caso si apre davvero il tutto che poi la scienza dovrebbe come diceva il professore cercare di riportare entro dei binari perché altrimenti ci perdiamo questa mattina mi è stato spiegato che c'erano due sorti di parti la prima quella propriamente scientifica del professor Moro e poi la seconda quella con Mario Capello che è editor e scrittore che vi introdurrà appunto alla seconda cioè ai laboratori a cui chi vorrà potrà partecipare in cui farete un po' come è stato detto prima delle due vie dopo quella via scientifica trovate potrete incamminarvi sulla via del racconto sulla via narrativa sulla via del linguaggio che si applica in questo caso al mondo scientifico ed è un passaggio molto difficile credo che se fosse dato questo compito di fare un racconto a tanti adulti molti adulti non sarebbero in grado di fare un'impresa del genere quindi sicuramente voi avete di fronte una grande sfida che è bellissima e sicuramente complessa ma secondo me che adatta alle menti dei giovani che sono molto più brillanti e aperte di quelle invece dei vecchi lascio quindi la parola a Mario Capello che vi racconterà questa seconda parte dei laboratori allora buongiorno a tutti grazie per essere venuti qua e grazie per questa opportunità e allora io parlerò brevemente farò una brevissima lezione che a questo punto sarà un po' sunteggiata ma che spero possa risultare chiara una brevissima lezione sul rapporto tra il romanzo e il pensiero perché alla fine questo è stato l'argomento che è stato affrontato dal punto di vista scientifico che è un rapporto tutt'altro che scontato e poi affronterò brevemente il tema dei laboratori come si svolgeranno i laboratori e i nostri incontri delle prossime settimane come si svolgeranno anche nel resto del paese nel corso di questo programma allora il romanzo quando nasce il romanzo e che cos'è il romanzo nelle varie genealogie possibili della forma romanzo forse quella che va per la maggiore ed è ormai considerata canonica vede la nascita del romanzo alla fine del settecento in Inghilterra il romanzo nasce quando poi ad un certo punto c'è anche un'ascissione però c'è un'ascissione tra i due aspetti le due forme di narrazione che andavano per la maggiore da una parte nasce viene codificato quello che verrà chiamato romance per gli inglesi perché gli inglesi anche perché hanno una storia più articolata della nostra sul romanzo usano due termini per parlare dei romanzi per chiamare romanzi da una parte il romance e dall'altra il novel in questo periodo queste due forme che fino a quel momento sono state mescidate mischiate si separano da una parte ci sarà il romance che è il romanzo d'avventura quello dove accadono un sacco di cose il romanzo di trama e fondamentalmente di peripezie che accadono ai personaggi dall'altra parte nel novel invece succede una cosa stranissima veramente molto curiosa nella storia letteraria perché improvvisamente diventano dei romanzi che si occupano della vita quotidiana e delle persone quotidiane la definizione la prima definizione di romanzo viene data mi pare da Fielding che è uno dei tre inventori del romanzo moderno almeno quelli canonici che sono Fielding Stern e Smollett e Fielding dice il romanzo è un poema eroicomico in prosa avete presente cosa sono i poemi eroicomici no? vi ricordate la secchia rapita tassoni e tutte quelle cose che c'erano anche in Italia ad un certo punto questi autori in Inghilterra cominciano a scriverli in prosa e questi due elementi del eroicomico e in particolare del comico e della prosa sono gli elementi fondamentali per la nascita del romanzo perché? per due motivi diversi prima di tutto perché effettivamente questi primi romanzi fanno ridere sono comici nella stessa accezione in cui usiamo noi questo termine in particolare i romanzi di Stern sono divertentissimi e lo sono tuttora sono dei romanzi bizzarri estremamente sperimentali ma anche molto facili da leggere il suo romanzo più famoso racconta della giornata di un personaggio bizzarro che ha ricevuto una strana ferita in una parte del corpo che non posso nominare in questo momento perché siete dei ragazzi e che ha uno zio ancora più strano che ha l'obby di ricostruire una battaglia in cui a sua volta è rimasto ferito sempre da quelle parti e insomma dove non succede niente se non varie bizzarrie e cose curiosi Fielding il romanzo il Fielding il Tom Johnson è un po' diverso però tendenzialmente fanno ridere ma è comico si usa comico anche in un'altra accezione voi ricordate la gerarchia dei generi di Aristotele che in realtà è stata immaginata è stata codificata in Grecia migliaia di anni fa ma ha avuto un'influenza lunghissima ha un'influenza tuttora sul modo in cui noi raccontiamo le storie e si vede in maniera evidente nelle pubblicità banalmente questa gerarchia prevedeva che per ogni classe sociale ci fosse un genere letterario prevedeva anche altro prevedeva dei codici per cui determinati generi andavano scritti in una determinata maniera ma tra le varie prescrizioni prescriveva anche che determinati personaggi provenienti da una determinata classe sociale un determinato ambito sociale potessero essere raccontati soltanto attraverso determinate forme e il collegamento principale era quello tra le persone di nobili natali meglio ancora semi dei e l'epica classico l'epica che era la forma di narrazione principale dell'antichità si occupava fondamentalmente solo di aristocratici e di persone tendenzialmente importanti col passare del tempo ovviamente questo si è declinato in maniera diversa a seconda delle epoche quello che invece è rimasto vincolante e che è tuttora vincolante se ci pensate un attimo è che le persone invece di bassa estrazione dovessero essere raccontate attraverso la commedia la commedia era anche il genere come racconta anche spiega anche Dante che tendenzialmente inizia male cioè con un gran caos e poi finisce bene però doveva occuparsi di persone di bassa estrazione doveva occuparsi di persone di bassa estrazione il che creava ovviamente delle limitazioni anche eccessive alle persone che dovevano scrivere un po' anche alle persone che dovevano leggere ad un certo punto in Europa succede questa cosa i lettori il pubblico e poi sono quelli che decidono veramente la fortuna dei vari generi letterari cominciano a sentire l'esigenza di vedere raccontate le persone come loro le persone che non erano né semidei né aristocratici e verso la fine del Settecento e poi soprattutto nel 1800 in Europa si diffonde come una sorta di epidemia questa passione per i romanzi questa passione per i romanzi che hanno questa peculiarità raccontano come spiega benissimo Franco Moretti nel suo libro raccontano in maniera seria di persone comuni di persone banali e quindi questa è la cosa per cui si dice comico del poema eroe comico l'altro è ovviamente la prosa perché la prosa ovviamente non si usano i versi ma c'è un'altra accezione ulteriore è il fatto che questi romanzi non si occupano più di avventure mirabolanti non si occupano più della conquista di Troia oppure del ritorno in patria di Ulisse ma si occupano della quotidianità di ciò che è appunto prosaico per noi della vita di tutti i giorni e di conseguenza nella vita di tutti i giorni lo sappiamo benissimo è difficile che ci succedano delle cose particolarmente divertenti particolarmente interessanti la nostra vita è abbastanza banale le cose forse davvero interessanti anziché avvenire nell'esterno anziché avvenire al di fuori di noi avvengono nell'interiorità quindi quello che succede nei romanzi in quel periodo quando il romanzo diventa romanzo è spostare l'attenzione dagli eventi esterni agli eventi interni la più grande rivoluzione del romanzo come forma è quella di concentrarsi non tanto perché ovviamente ci sono anche le trame e tutto quello che accade fuori su quello che accade ai personaggi nel mondo esterno ma di dare finalmente visibilità e importanza e dedicare davvero l'attenzione dello scrittore e del lettore su quello che accade all'interno dei personaggi quindi potremmo dire che un altro modo per vedere il romanzo è questa è la forma che si occupa per la prima volta del pensiero del personaggio che non è una cosa da poco i personaggi dell'epica non hanno un pensiero in qualche modo non hanno veramente neanche dei sentimenti ovviamente questo è dovuto ma sarebbe difficile da dimostrare anche a ragioni culturali e a ragioni storiche non potremmo mai sapere se davvero un greco dell'epoca omerica approvasse i nostri stessi sentimenti forse quelli di base alcuni forse sono davvero universali però di sicuro l'epica non li raccontava se non per quello che avevano se non per gli effetti che potevano avere nel corso della storia ovviamente l'ira di Achille è l'esempio peculiare invece con il romanzo diventano centrali i sentimenti soprattutto i sentimenti infatti molti dei romanzi si occupavano di storie d'amore è normale è giusto perché forse è il sentimento che ci guida e ci che domina le nostre vite in maniera maggiore ma non solo anche tutti gli altri i pensieri cominciano a diventare veramente centrali e via via nel momento in cui diventano il vero argomento della narrazione devono venire sviluppati gli strumenti per poterli raccontare per poterli mettere sulla pagina e poterli far arrivare al lettore letteralmente gli scrittori di romanzi dell'ottocento devono inventare gli strumenti che devono utilizzare perché nessuno l'ha fatto prima quindi anche una continua ricerca e una continua conquista quindi si passa prima dal narratore omodegetico in prima persona poi comincia ad apparire evidente che il narratore in prima persona è troppo limitante perché non può che dare soltanto un sprazzo di realtà e soprattutto non può che riportare per l'evidente limitazione della prima persona non può che riportare i pensieri di una singola persona del narratore ma se ci si concentra soprattutto sui pensieri e sui pensieri delle persone che vengono raggruppate in una storia forse utilizzare un narratore esterno un narratore omnisciente forse è più interessante è più interessante ed è più comodo e quindi ecco il narratore omnisciente il narratore omnisciente letteralmente può sapere cosa pensano le varie persone però col passare del tempo limitarsi semplicemente a dire che cosa pensavano questi personaggi comincia a risultare poco appagante allora il romanzo diventa uno strumento sempre più raffinato per poter compiere questo passaggio non interessa più rappresentare cosa pensano i nostri personaggi che cosa provano si cerca sempre di più di andare a un livello ulteriormente avanzato ancora più profondo ma letteralmente riuscire a trascrivere il pensiero non più un narratore che ci dice che Anna di Anna Carienina è triste ma letteralmente oppure sta soffrendo per amore per Vronsky oppure si sta annoiando nella prima parte della sua vita ma letteralmente vedere che cosa pensa questo avviene a stadio come tutti i lavori di ricerca i vari scrittori ci provano e c'è un continuo passaggio del testimone finché qualcuno non si ritrova con lo strumento adatto a fare questa roba io ho portato due esempi ma leggerò dei pezzi brevissimi uno è da Anna Carienina quando Anna Carienina questo è uno dei passaggi fondamentali della letteratura questo è uno dei romanzi fondamentali e voi sapete come finisce Anna Carienina o devo temere di fare dello spoiler che è l'unico per te Anna Carienina ce l'avete presente lei si ammazza muore si ammazza anche in una maniera piuttosto drammatica no no è vero muore ma si sapeva anche perché non è la vera protagonista di questo bellissimo romanzo quindi adesso lo devo ritrovare e quando prima di prima di uccidersi prima di andare a compiere questo ultimo tragico viaggio fa un viaggio in carrozza e in questo viaggio in carrozza le succedono delle cose comincia a pensare a quello che le è accaduto a fare un bilancio della sua vita e questo è importante per il romanzo ma soprattutto succede un'altra cosa che è ancora più importante per il romanzo in generale perché Tolstoi si inventa lo strumento che poi diventerà fondamentale per provare a trascrivere e a riportare il pensiero ed è poi quello che verrà utilizzato tantissimo nel novecento e questo è il passaggio sedendo in un angolo della comoda carrozza scossa appena sulle sue molle elastiche al trotto serrato dei cavalli grigi Anna nel continuo rumorio delle ruote all'aria aperta fra le impressioni della strada che si succedevano rapidamente cominciò a esaminare di nuovo gli avvenimenti di quegli ultimi giorni e li vide sotto altra luce la morte ormai non le pareva più inevitabile ora si rimproverava d'essersi lasciata andare così giù d'essersi umiliata tanto l'ho scongiurato di perdonarmi mi sono confessata colpevole perché forse non posso vivere senza di lui ma senza rispondere a questa domanda si mise a leggere le insegne ufficio e deposito dentista si dirò tutto ad Olli lei non può soffrire Vronsky sarà umiliante doloroso ma le dirò tutto mi vuol bene e io seguirò i suoi consigli non mi sottometterò a lui come una bambina Filipov panini si dice che li mandino fino a Pietroburgo l'acqua di Mosca è la migliore i pozzi di Mitischensk si ricordò che tanto tanto tempo fa quando aveva 17 anni era stata con la zia al convento della Trinità ci si andava in carrozza ero io quella ragazzina con le mani rosse quante cose che allora mi parevano magnifiche sono diventate insignificanti ma quello che c'era allora non lo potrò più raggiungere avrei potuto figurarmi allora di arrivare a questa omigliazione come sarà orgoglioso lui a leggere il mio biglietto gli farò vedere che cattivo odore di vernice mode e confezioni quello che inventa Tolstoy in questo passaggio è il cosiddetto flusso di coscienza quello che fa è provare a capire come funziona il nostro pensiero il nostro cervello anche in delle situazioni di stress Anna Karina sta facendo un bilancio della propria vita sta andando verso la morte anche se in questo momento è leggermente in crisi prima era molto più decisa poi come spesso accade quando ci si avvicina al momento clou comincia a farsela un po' sotto a ricrederci a ripensare a quello che avviene eppure mentre è in questo momento fondamentale della sua vita il suo cervello viene colpito da tutto quello che la circonda dalle varie impressioni della strada e della realtà legge le insegne ripensa a quello che le è accaduto prova a fare anche un discorso razionale tra sé e sé dice a imporsi farò questo e farò quest'altro però il suo pensiero come se fosse un liquido che passa attraverso un setaccio o attraverso le dita le sfugge e non riesce a controllarlo del tutto e la realtà entra e in particolare la realtà della metropoli della grande città entra nel cervello e lo stimolo e lungo questo percorso continua il romanzo fino ai grandi esiti della prima parte del novecento forse chi lo fa meglio qua leggiamo un altro pezzo di un altro romanzo fondamentale è Joyce nell'Ulisse il finale dell'Ulisse è dedicato alla moglie del protagonista che è un Bloom la moglie è Molly Bloom ed è famoso perché è probabilmente il flusso di coscienza meglio realizzato e recompiuto in una maniera più pura ed è anche forse uno dei più lunghi e possiamo prenderne un pezzo a caso perché tanto è questo letteralmente un flusso nel senso che è quasi questo rigurgito di pensieri che Molly compie mentre sta aspettando il marito a letto e Joyce prova a rappresentare il pensiero in questo modo o come diavolo si chiama per schifarvi ancora di più con quelle sporche figure di bambini con due teste senza gambe ecco le turpitudini cui pensano tutto il giorno senza nient'altro in quelle loro teste vuote dovrebbero dargli un veleno lento a buona metà di loro e poi te e crostini imburrati da tutte e due le parti per lui e uova di giornata credo e io non sono più nessuno quando mi lasciai leccare in old street una notte un uomo un uomo tiranno come sempre per prima cosa dormi sul pavimento metà della notte nudo come fanno gli ebrei quando muore qualcuno dei loro e va avanti così per pagine e pagine a provare non a descrivere neanche a raccontare ma letteralmente a trascrivere il caos il disordine ma anche l'energia creativa che è il nostro pensiero soprattutto in questi momenti di Vene però la storia della letteratura non è mai lineare e non è mai teleologica e non è mai diretta in una sola direzione se per buona parte della storia del romanzo è stato anche questo una ricerca tesa a trovare il modo migliore per raccontare i pensieri con Joyce e con i modernisti all'inizio del Novecento questa parabola sembra quasi essere compiuta con gli esiti dell'Ulisse succede qualcosa è come se gli scrittori da quel momento in poi avessero trovato un nervo scoperto troppo doloroso qualcosa forse di troppo troppo delicato troppo sensibile e se ne ritraggono anche spaventati e quindi si ritorna all'ordine e questo strumento il flusso di coscienza che appare così importante nella storia letterale effettivamente quando si scrive abitualmente non è più così utilizzato si ritorna all'ordine e di conseguenza i metodi più convenzionali per riportare il pensiero che fondamentalmente sono due uno è ovviamente il discorso diretto il pensiero viene riportato a quello che fondamentalmente è almeno nella maggior parte dei casi cioè un dialogo un dialogo ovviamente ridotto a soliloquio dentro il proprio cervello e quindi le battute del pensiero vengono riportate come se fossero un discorso diretto come se fossero la battuta di un personaggio che però il personaggio non pronuncia ad alta voce ma pronuncia nel proprio cervello ed è un metodo efficace forse poco elegante l'altro è l'indiretto libero sull'indiretto libero credo che l'abbiate già fatto ampiamente però l'indiretto libero permette di raccontare una determinata realtà come se fosse filtrata dal pensiero di un personaggio e mettere dentro il tessuto della nostra storia il pensiero e non soltanto i pensieri dei nostri personaggi e questo insomma è un brevissimo brevissimo riassunto di quello che è il rapporto tra il romanzo e il pensiero che potrebbe essere veramente considerato un rapporto quasi inscindibile il romanzo nasce quando ci si accorge che le cose più interessanti non accadono all'esterno di noi ma dentro le nostre teste e si decide di raccontare bene quindi io per questa parte avrei finito vorrei dirvi semplicemente come si svolgeranno le lezioni i laboratori nelle prossime settimane io mi aspetto come anche i miei colleghi che lo faranno in giro per l'Italia che voi arriviate già con delle idee con delle proposte proposte che spero che siano state stimolate anche dalle lezioni di oggi le valuteremo e sulla base della nostra esperienza nel campo letterario e nel campo editoriale proveremo a cercare di dare dei consigli su come queste idee possono essere declinate non tanto se funzionano perché non è quello il nostro compito tendenzialmente le idee per dei racconti possono funzionare tutte ma concentreremo su come possono essere trasformate in un racconto e come possono essere rese davvero fertili qual è la maniera migliore per raccontare una determinata idea un modo migliore per sviluppare un determinato spunto e sarò disponibile per rispondere alle vostre domande dal punto di vista tecnico come ad esempio va costruito un determinato dialogo se in un racconto la trama va virata in un certo modo oppure no e aspetti stilistici cercheremo di parlare di questi argomenti partendo facendo delle azioni che partono dalle vostre idee dai vostri progetti e da quello che avete in testa e che avete deciso di raccontare e quindi ne faremo una sorta di laboratorio che spero che possa risultare stimolante e che possa aiutarvi a produrre dei racconti all'altezza delle edizioni precedenti che sono sempre state molto ricche molto valide soprattutto le scuole di Torino quindi avete una bella responsabilità perché c'è una tradizione ormai notevole dei vincitori provenienti da questa città e in particolare da la vostra scuola e saremo a disposizione per qualsiasi domanda se avete qualsiasi dubbio o volete sapere qualcosa ancora del concorso ci sono i contatti attraverso il sito www.scienzanarrata.it www.premioletterariomerc.it poi c'è la pagina facebook facebook scienza narrata e twitter scienza narrata e quindi per qualsiasi domanda potete provare a contattarci in questo modo e poi ci vedremo nelle prossime settimane per lavorare e cominciare a lavorare sui vostri testi grazie grazie Mario a questo punto abbiamo ancora direi 10 minuti e un quarto d'ora per concludere eh professore sì sì volevo solo dire due cose che si agganciano ai vostri interventi la prima riguarda l'importanza della comunicazione della scienza cosa che lei ha messo bene in luce tra l'altro io questi esperimenti che io ho fatto li ho iniziati a fare a San Raffaele dove la centralità del trattamento della sclerosi multipla aveva coinvolto una discussione globale sulla questione della salute che aveva stimolato molti nostri discorsi però volevo dire una cosa che ho detto una volta in pubblico alla prolusione dell'anno accademico come rettore vicario della mia università prendendolo un po' alla larga voi la mattina quando vi svegliate avete un imperativo tranne quelli fisiologici voglio essere felice è quello che noi vogliamo fare tutta la vita noi vogliamo essere felici facciamo tante cose per essere felici vero o no due possiamo farne di sicuro tra le tante imparare a capire se ci sono le medicine che ci tolgono dei problemi e scommettere come scommettere si vince la lotteria uno può dire alla mia età 54-53 anni dice ci sarà la medicina che mi risolve il mal di testa ci sarà la medicina che farà in modo che non mi venga il fiatone a correre sulle scale ci mangia meno no lascia perdere e l'altra è quella corro e scommetto a una lotteria per farvi dare per farvi capire qual è la sproporzione dei tuoi atteggiamenti nel nostro paese vi do due cifre vi ricordate quando avevo detto lo Human Brain Project 23 paesi europei in 10 anni iniziativa guidata da Richard Frokowiak della Politecnico di Lausanna un miliardo e 350 milioni di euro per un singolo progetto nel 2008 il nostro paese in scommesse lecite ha speso 47 miliardi di euro e se teniamo conto dei dati aggiornati ne discutevamo ieri sera con PGO di Freddi sembrano salire a più di 80 miliardi di euro solo in Italia questo lo si sa perché essendo queste scommesse legalizzate lo Stato incassa più di 9 miliardi di contributi che servono per pagare le scuole gli autobus le fognature eccetera questo vi fa capire quanto poco siamo riusciti noi i professori e chi se ne occupa a far capire alla società che quando ti alza la mattina piuttosto che andare a investire su tre fragoline che ti vengono fuori uguali o che venga un cavallo o che faccia gol non so chi conviene forse investire nella ricerca almeno secondo me la gente deve essere messa di fronte a questa scelta preferisci spendere preferisci che il tuo paese spenda 80 miliardi di euro in scommesse o che in qualche modo la ricerca scientifica venga avvantaggiata i progetti universitari di ricerca quest'anno facendo fare i salti mortali al nostro ministero sono passati da 30 a 90 milioni di euro pensate 80 miliardi 90 milioni allora se ci sono che concorrono alla consapevolezza di quanto vale la ricerca per incidere sulla società è evidente che l'industria in qualche modo che è il motore pulsante delle idee non dimentichiamoci quello ha un ruolo centrale la seconda cosa che invece vorrei dire riguarda quello che hai detto tu adesso riguarda la narrazione ed è proprio in qualche senso il proprio di questo evento che vi siete inventati del narrare scienza e si rifà a un contatto personalissimo che vi confesso io ho avuto l'occasione di incontrare e stare un giorno insieme a Oliver Sacks che era stato un medico un discurso se volete che è morto credo quest'anno mi sembra che si è mancato quest'anno e in questa giornata abbiamo parlato di come lui tratta i pazienti psichiatrici e poi a un certo punto gli ho detto sì ma perché scrivi dei racconti e lui mi guarda e fa la stessa cosa no scusa fammi capire tu tratti un paziente psichiatrico scrivi un racconto e questa è la stessa cosa dice sì ho imparato dai russi da Luria che era un grande psichiatra russo diceva io prendo il malato psichiatrico e quasi sempre noto che la sua vita è vissuta a blocchi distinti ci sono delle paose degli iati in cui lui non si riconosce non riesce a tenere insieme il ricordo di sé allora io glielo racconto prendo i suoi pezzettini le sue fotografie e con pazienza faccio un album in cui le foto sono messe in ordine ecco allora la mia impressione sentendo quello che hai detto tu oggi sulla sofisticata arte del narrare e vedendo la vostra presenza qui che forse è la testimonianza più bella di tutte penso che il narrare la scienza sia un modo per capire il mondo nella sua realtà scientifica che quindi non sia un accessorio barocco in cui tu aggiungi qualcosa alla scienza e aggiungi qualcosa alla narrazione ma facendo narrazione della scienza vai avanti esattamente in quello che tu vuoi cioè nel capire meglio il mondo quindi casomai sono io che vi ringrazio per questa occasione a questo punto c'è qualche domanda anche chiarimenti magari avete qualche dubbio qualcuno abbiamo buttato tante cose adesso noi ci trofoliamo tra di voi se avete anche veramente solo chiarimenti su quello che è stato detto da tutti e due fatevi sotto prego come ci si trova a lavorare per professionisti di ambiti molto diversi e a collaborare anche non ci strettamente nella comunità su dei progetti comunque la prospettiva a volte in cui si tratta di questi problemi parte anche da punti molto diversi quindi ci si scontra se riesce a procedere per forza trovare una linea veramente identica o è concessa agli ambienti professionisti di rimanere buono grazie bellissima non bella intanto mi colpisce subito il verbo che lei ha utilizzato come ci si trova trovarsi vuol dire condividere trovare una persona con cui tu devi deve avere uno spazio in comune ci sono due cose che io dico sempre per quanto riguarda l'università primo che le idee che ho avute sono venute al bar nel senso che io figuratevi se mi presento da un neurologo bussando di solito occupati in questioni delicate a dire secondo te è possibile che la sintassi sia scendibile dalla fonologia vengo lanciato però al bar c'è una licenza poetica creativa notevole quindi la costruzione è uno spazio comune la seconda cosa se avete mai pensato a quanto la forma delle città influisce sulla forma delle università è vero che noi viviamo in un momento straordinariamente innovativo credo che il paragone della influenza che ha avuto internet sulla cultura sia solo paragonabile a quella della stampa ma prima di internet le grandi università non erano in grandi città Cambridge stava a Londra come Cambridge Massachusetts che dove ho studiato io stava a New York un sacco di posti sono fatti così perché le città se sono piccole favoriscono ancora una volta l'incontro dunque la prima cosa che le dico è visto bene il problema decisivo è l'incontro il secondo problema è che tu quando ti incontri devi intenderti se tu parli due lingue diverse ne devi creare una comune quello che lei dice è un punto delicato che non ha una risposta a priori io penso questa cosa qui che noi portiamo dentro di noi un'interpretazione estremamente soggettiva e caparbia di quello che vogliamo ottenere da noi e dagli altri ma se non ci mettiamo a disposizione di ascolto va a finire che non riusciamo a scambiare e a progredire voglio dire i lavori sul linguaggio e cervello non avrebbero avuto e adesso se voi aprite una qualsiasi rivista di alto livello di neuroscienze sul linguaggio e cervello ormai ne trovate tanti quando abbiamo risposto noi veramente era il primo sul sintassi e cervello lo trovate proprio perché c'è stata la possibilità di condividere un linguaggio sembra banale ma avere un glossario comune diventa fondamentale ecco perché a mio parere lo sforzo che la scuola fa comunque sulla riflessione linguistica è fondamentale perché vi allena alla manipolazione del più sofisticato degli strumenti io penso che anche sia evidente che anche nel mondo del lavoro in realtà saper parlare è fondamentale comunicare una strategia non lo fai solo con i numeri lo fai ponendo l'attenzione sui numeri e l'attenzione sui numeri non la porni con i numeri ma con le parole quindi in un certo senso trovarsi ecco la domanda che magari qualcuno di voi non so se me la avreste voglia di farmela oggi ma che mi sento fare spesso è cosa devo fare io per poter studiare queste cose qui poi all'università ecco in questo momento per esempio questo è un buco non c'è se uno vuole fare il neurolinguista cosa fa? io consiglio di fare medicina però una cosa importante è che ci sia una pressione da parte vostra sulla richiesta di formazione che deve in qualche modo aderire con l'offerta banalmente dovete trovare lavoro e non è che possiamo fare tutti i pifferai a meno che ci sia un mondo che ha solo bisogno di pifferai però siccome fondamentalmente invece il mondo ha bisogno di altre cose la questione della formazione quindi la condivisione del linguaggio di un posto diventa centrale però è importante che ci sia la pressione da parte vostra che siete in questo caso quelli che dovete volere mi veniva in mente come giornalista che in fondo noi notiamo che abbiamo bisogno di una grande educazione al linguaggio e alla comunicazione perché nell'era di internet sembra che abbiamo un po' perso questa capacità di argomentare le nostre ragioni e per esempio parlando spesso con gli scienziati io vedo che oggi una sfida degli scienziati che secondo me è molto interessante ed è un tema che credo possa appassionare molto i giovani è il fatto che oggi lo scienziato non è più quello dello stereotipo ancora della mia infanzia essendo io vecchio gli scienziati oggi sono grandi team e quindi come succederà si spera a Milano con lo Human Technopole che partirà fra poco la sfida è mettere insieme appunto un professore come il professor Moro un neuroscienziato uno psichiatra un matematico un informatico un esperto di computer uno di big data e si capisce che soltanto facendo parlare queste persone che in realtà non sono mai state abituate a parlare l'una con l'altra si potrà far progredire la conoscenza scientifica perché il futuro della scienza è quello dei grandi esperimenti e dei grandi team interdisciplinari e quindi se ci pensate torniamo di nuovo al tema originario di questa mattina cioè la scienza in fondo ha un suo linguaggio fondativo probabilmente che è la matematica che probabilmente riesce a far comunicare anche magari un cinese che sa solo il cinese e un italiano che sa solo l'italiano sperando insomma che sappiano un po' di formule e algoritmi ma la cosa interessante è che anche la scienza e gli scienziati oggi si trovano a dover affrontare questa sfida del linguaggio devono imparare a dialogare di più fra di loro come fossero un po' moglie e marito che devono litigare meno e parlare di più e poi devono parlare al pubblico all'opinione pubblica che è composta da tanti tipi e questa in fondo è la loro scommessa che è la scommessa buona non è la scommessa delle tre fragole ma è una scommessa intellettuale quindi se ci pensate questa scommessa in fondo coinvolge tutta la società nel suo complesso quindi anche la politica l'economia l'industria è una sorta di collante che permetterà poi di fare quel passaggio che diceva Andrea Moro che è del 1491 stiamo arrivando al 1492 ma dobbiamo arrivarci un po' pronti altrimenti rischiamo dal punto di vista degli indiani d'America il 1492 non è stato un bell'anno poverini e quindi ecco ma d'altro hai detto benissimo sembra che siamo in sintonia avete notato la parola centrale della prima parte della sua situazione era argomentare io ho una una sollecitazione continua a gente che mi vuole far dire che gli sms fanno male all'italiano Claudio Marazzini che adesso è presidente dell'Accademia della Crusca oltre a occuparsi degli aggettivi in oso evidentemente vedete che leggete evidentemente abbiamo fatto una volta una conferenza insieme in cui è chiarissimo che le abbreviazioni non fanno male all'italiano ragazzi se le abbreviazioni facessero male a una civiltà l'impero romano durava 5 minuti avete mai letto una lapide latina è tutto un come si diceva prima non c'è vero tu sei un latinista di grido eh più o meno vabbè tra gli rest geste di Augusti però quello che danneggia veramente la comunicazione è quello che ha detto lui l'argomentazione ma chi danneggia l'argomentazione non gli sms ma la pubblicità ieri prima parlavamo con Emanuela di questa cosa hanno fatto la serata in onore di Ettore Scola e hanno proiettato una giornata particolare un film che non avevo mai visto bellissimo bellissimo se non che ogni 20 minuti mi vendevano un pannolino la Coca Cola ma siamo matti ma è evidente che la nostra capacità di tenere l'attenzione e di argomentare come protagonisti si sfalda se il nostro respiro concesso è di un quarto d'ora e la questione dell'argomentazione è poi quella centrale che poi infonde quello che dicevi tu mi riallaccio prima ho detto che la pubblicità è uno dei pochi posti in cui ancora si può vedere l'influenza della gerarchia dei generi di Aristotele e mi sembra fondamentale perché la pubblicità nei tanti modi in cui ci danneggia è anche inveicolare questi stereotipi un esempio classico è che per i dettami della commedia le persone oltre che essere di bassa estrazione devono essere brutti tendenzialmente se voi guardate le pubblicità e in particolare le pubblicità dei prodotti domestici quando ci sono c'è una donna di servizio quindi bassa estrazione e poi il protagonista della pubblicità per esempio è Gerry Scotti Gerry Scotti che è comunque un uomo piacente eccetera elegante si rivolge alla sua donna di servizio comunque elegante si rivolge alla sua donna di servizio che tendenzialmente è bruttina le donne di servizio non sono mai belle nella pubblicità e le spiega con tono molto paternalistico come lei deve fare le pulizie tirando fuori un prodotto che lei ha visto mille volte ma non conosceva Gerry Scotti quindi queste pubblicità ovviamente lui è elegante lei è bruttina e tendenzialmente fa una figura del cavolo perché quello è il ruolo che è stato destinato da Aristotele alle persone di bassa estrazione nei racconti e se voi leggeste qualsiasi romanzo e avesse questi schemi così banali verrebbe sbertucciato e distrutto dalla critica probabilmente verrebbe pubblicato lo stesso di questo livello però verrebbe almeno sbertucciato invece la pubblicità questa roba qua questi stereotipi così scontati e soprattutto così dolorosamente falsi ma anche corrompenti ce li fa bere in continuazione per esempio va bene a questo punto direi ringraziamo la capacità argomentativa di Andrea del muro e Mario Capello e la vostra capacità di attenzione perché siete stati attentissimi e quindi grazie davvero e a presto grazie